Buonasera, allora stasera coniglio per mio marito alla cacciatora, ho messo rosolare coniglio in ex avergine d'oliva, adesso andrò a mettere carote, sedano, capperi, pomodori pelati, oliva nere, sale e pepe. Ho aggiunto tutti gli ingredienti che vi ho elencato, adesso vado ad aggiungere il basilico, il rosmarino, il prezzemolo e poi dovrei aggiungere anche un attimo dell'origano. Dopo aver aggiunto tutte le erbe aromatiche metterò un nestolino di acqua e poi coprirò con il coperchio e farò cuocere 30 minuti a fuoco dolce. Il coniglio è quasi cotto, fra 5 minuti il sughetto si asciugherà. Ma non del tutto, perché è buono anche fare la scarpetta, pucciare il pane. Buon appetito e buona cena!